Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video Io sono Giacottandotto e come inizio di settimana ragazzi Oggi vi porto in questo video per mostrarvi dove trovare la stella segreta della settimana 9 Stai con queste ragazzi Prima di tutto ragazzi vi invito a lasciare un bel like al video E soprattutto ad iscrivervi al canale attivando la campanellina Quindi passiamo al tutorial Diciamo tutorial però al video Allora ci dirigiamo al bacino bucato Ragazzi come state vedendo la stellina si trova al bacino bucato Quindi fate gli screen così vi salvate il posto preciso di dove si trova la stella Allora Comunque fatemi sapere sotto nei commenti se ogni settimana questi video vi piacciono Ok raga Comunque per trovare questa stellina ragazzi bisogna completare tutte e sette le sfide della settimana 9 ragazzi Io se non trovo la stella è perché questo video lo sto registrando in anticipo E quindi ragazzi questo è il punto preciso dove si trova la stella